Si sono chiuse in contemporanea le tappe abruzzesi di Goletta Verde e Giulianova e di Goletta dell'Aghi a Scanno, le due campagne di lega ambiente che monitorano rispettivamente le acque dei mari delle coste italiane e lo stato di salute dei bacini lacustri italiani. Tecnici di Goletta Verde hanno effettuato prelievi nelle giornate del 16 e 23 luglio in otto punti e la metà sono risultati oltre i limiti di legge, mentre sono positivi i dati dei rilevamenti fatti sul lago di Scanno, dove i punti sono risultati conformi ai limiti di legge, come già rilevato nel 2023 e nel 2022, anno in cui è iniziato il monitoraggio di questo lago. Sì, concludiamo quindi qui da Giulianova la bellissima tappa abruzzesi di Goletta Verde che ha visto protagonisti anche come siti Vasto, Pescara, oltre appunto a Giulianova. In parallelo alla nostra Goletta oggi si conclude anche il tour regionale della Goletta dei Laghi, una campagna che va in parallelo quindi alla Goletta Verde, quindi noi attenzioniamo tanto il paesaggio costiero e le acque marine, tanto anche le acque interne dei laghi e infatti in questo momento si sta concludendo la campagna proprio al lago di Scanno. La qualità delle acque per quanto riguarda i nostri parametri, quelli che abbiamo monitorato quindi nei siti a mare e in corrispondenza delle foci, presentano un peggioramento rispetto allo scorso anno. Quest'anno abbiamo su otto campionamenti effettuati lungo il litorale, un peggioramento perché abbiamo quattro situazioni di criticità, quindi di sforamento oltre i limiti previsti dalla legge. Questo sforamento però avviene soprattutto lungo le foci dei fiumi e questo significa che evidentemente c'è un problema di scarsa depurazione, bisogna andare a implementare il sistema fognario, il sistema di depurazione e soprattutto controllare le scariche abusive che sono spesso alla base di questo fenomeno. Dunque grande soddisfazione per il premio delle 5 vele per il lago di Scanno, mentre bisogna fare di più sul fronte della tutela del nostro mare e dei corpi idici superficiali che quest'anno sono risultati avere il 50% dei punti monitorati oltre i limiti di legge. Rispetto all'anno scorso registriamo un peggioramento della situazione nella nostra regione. Su 8 punti campionati, come l'anno scorso, sempre 6 foci di fiumi e 2 punti a mare, 4 risultano fortemente inquinati e tutti e 4 sono foci di fiumi, in particolare quindi la foce del Vibrata e del Tordino sulla costa nord e le foci della Lento e del Feltrino sulla costa sud. Questo ci dice che dobbiamo mantenere particolarmente alta l'attenzione sul nostro sistema depurazione, sugli scarichi fognari, nel momento in cui nella nostra regione i corpi idrici superficiali sono già gravemente toccati da siccità e alte temperature.